... Auguro di una buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci concentriamo su un tema molto importante perché parleremo del rapporto tra gli enti locali e le aziende che nascono proprio da un territorio ma che poi diventano più grandi, si ingrandiscono, si ramificano e vanno a intercettare diversi nuovi rami d'azienda. Nel caso specifico parleremo di Estra e di Prato e lo faremo con Paolo Abati che è direttore generale proprio di Estra S.P.A. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E buonasera a Benedetta Squittieri che è assessore all'innovazione e all'agenda digitale del Comune di Prato. Buonasera. Buonasera. Allora come dicevamo insomma sono due entità, quella di Prato e quella di Estra che nascono insieme, poi oggi Estra in realtà è una multi utility che intercetta diverse regioni e poi insomma fa parte con partnership e non solo di diverse entità in tutta Italia. Vorrei partire a questo punto, ne vale la pena forse proprio dal tema Abati del bilancio di sostenibilità. Ci riferiamo ovviamente a quello dell'anno scorso pubblicato pochi giorni fa e lo vediamo in numeri, così lo vediamo più schematico. Ecco qua. Oltre 200 milioni di euro la ricchezza distribuita da Estra sul territorio. Il 94% del personale ha un contratto a tempo indeterminato, qui c'è un errore. Il 17 mila ore di formazione svolta, il personale è formato con tutto questo monte orario. Sono oltre 34 milioni, quasi 35 milioni di kilowatt di energia prodotta da fonti rinnovabili. 24 mila tonnellate di emissioni evitate, quindi anche un occhio riguardo all'ambiente. E oltre un milione di euro per iniziative di corporate social responsibility, che vuol dire poi sostanzialmente partnership. E parleremo di questi temi nello specifico ognuno, però questo per dire che insomma da dove è nata Estra, da dove partì Estra, oggi siamo arrivati a una società, come dire, che è fondamentale in Italia in uno schema, come dire, che riguarda poi l'energia a tutto campo, no? Come ci sei arrivati? Beh, ci siamo arrivati con tanti anni di lavoro, perché diciamo l'esperienza di Estra viene dalle vecchie multi-utility, diciamo, vecchie municipalizzate, che sono nate tutte più o meno intorno agli anni, a metà degli anni 70, quindi da allora è cominciato un cammino. E anche questo regame con il territorio viene da questa esperienza, cioè da un'esperienza di aziende nate nel territorio per dare servizi di qualità ai cittadini e abbiamo anche con la nascita di Estra mantenuto un po' questa caratteristica, cioè quella di rimanere, pur essendo le dimensioni dell'azienda oggi, dimensioni che la pongono fra le prime sette a livello nazionale, ma di mantenere un profondo legame col territorio. Il bilancio di sostenibilità che da qualche anno è diventato obbligo, noi lo facciamo, questo è già il terzo bilancio di sostenibilità che facciamo, anche quando non c'era un obbligo di legge, è un altro modo di leggere le attività dell'azienda. Normalmente le aziende si misurano sull'immagine operativa lordo e sull'utile finale. Ma questo non rappresenta tutto in un'azienda, soprattutto quando è un'azienda che vuole guardare e nasce da un territorio come quello toscano. Il bilancio di sostenibilità tira fuori invece quei dati che rappresentano quanto un'azienda è importante per un territorio e quanto fa in termini di iniziative per lo sviluppo sociale e anche nel nostro caso per l'energia sostenibile. I numeri che hai mandato in onda sono numeri credo molto importanti, oltre 300 milioni di indotto di ricaduta in termini di soldi spesi nel territorio. Il sostegno a tutte quelle manifestazioni, società sportive piuttosto che culturali, enti di vario genere, che per noi sono un punto importante, anche perché noi ci vorremmo contraddistinguere anche da questo punto di vista. I nostri ricavi provengono dai nostri territori. Se una parte di questi ricavi tornano ai territori, credo che sia un fatto molto importante, oltre che gli utili che poi alla fine arrivano a sostegno delle iniziative dei comuni. Poi ci sarebbe tante cose da dire. Le diremo, diciamo così, perché poi sviscereremo un po' tutti questi numeri. Volevo però chiamare in causa anche squittieri perché, insomma, poi il tema centrale della nostra puntata mi piacerebbe fosse come si fa a mantenere il rapporto tra il territorio, in parte Abati, forse ho già risposto, tra il territorio e le grandi aziende che nascono in un territorio e che magari vengono ospitate nella sede centrale, insomma, nella testa pensante proprio da questi territori. Perché è fondamentale? Perché la paura, anche per il singolo utente, magari che oggi è abbonato con Estra, è quella di avere una grande azienda molto lontana dai propri bisogni. Come si fa invece a mantenere stretto questo legame? Intanto bisogna, diciamo, apprezzare un punto, cioè che il tema della centralità del ruolo dei soggetti pubblici, cioè dei comuni, quindi tutti i comuni partecipano a destra utilizzando ovviamente un mezzo, nel nostro caso tramite Consiag, e ovviamente rimane quindi la dimensione della proprietà pubblica e dei comuni, e sia, cioè tutto il tema della distribuzione degli utili, che è un fatto fondamentale e molto importante per i bilanci degli enti locali e per tutti i soci, per esempio, di Consiag, ma poi ovviamente ci sono anche le risorse che Estra le distribuisce attraverso le attività sociali, culturali e sportive che fa sul territorio. Ma l'aspetto, secondo me, su cui noi dobbiamo lavorare anche come enti locali è quello dello sviluppo industriale, cioè la vera sfida che è riuscita a rispondere Estra è quella che le municipalizzate di un tempo, che avevano una forma legata molto al territorio e al comune di riferimento, sono riuscite ad evolversi pensando al loro asset industriale, e quindi pensando siccome delle vere società, non pensando siccome delle municipalizzate rispondono solo ai bisogni dei comuni o dei consigli comunali in maniera, diciamo, stretta, come si pensava nella prima repubblica. No, oggi queste società, e Estra ne è probabilmente uno degli esempi più importanti d'Italia, è, diciamo, ce l'ha fatta perché si è pensata, è pensata al proprio sviluppo in maniera industriale, cioè i soci hanno avuto una visione industriale per le proprie società e questo fa la differenza. Tra l'altro su questo c'è anche uno scarto culturale abbastanza importante, secondo me da sottolineare, perché un tempo insomma si veniva visto appunto il modello industriale per le aziende pubbliche o partecipate come un demonio sostanzialmente, cioè quando si parlava di utili legati a soggetti pubblici era automaticamente qualcosa di demonizzato, in realtà Abati non è così. No, non è così, perché poi fare utili non è così semplice, anche se si opera in settori, diciamo che provengono da settori cosiddetti protetti, perché nel passato erano tutti monopoli, d'accordo? Oggi di monopoli è rimasto sostanzialmente solo il servizio idrico e il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ma tutti gli altri servizi sono tutti diventati, diciamo, settori dove è il mercato, quindi la sfida che avevamo di fronte era quella o di cedere queste attività come è successo in tante altre parti d'Italia, dove i comuni hanno deciso di vendere le proprie aziende, di cedere le proprie aziende perché la competizione era un fronte nuovo che era difficile da gestire, oppure come hanno fatto tanti altri soggetti, non solo estero ovviamente, hanno deciso invece di rendere le proprie aziende, come diceva Benedetta, dei soggetti industriali gestite come un'azienda e cercare di competere sul mercato che oggi è davvero molto competitivo. Se le aziende sono gestite bene ne trovano beneficio sia, diciamo, chi lavora per quelle aziende, i territori in cui quelle aziende lavorano e anche, come si è visto dai numeri, anche un indotto molto molto ampio. Fare utili non è facile, per fare utili bisogna stare, come dire, gestire al meglio le nostre aziende e anche qui c'è, diciamo, io voglio sfatare un po', non è detto che per gestire bene le aziende bisogna per forza che ci siano soggetti privati, ci possono essere, come è il caso di Estra, proprietà totalmente pubbliche delle aziende, che però hanno avuto, diciamo, nella storia i comuni, i nostri, per lo meno sicuramente i comuni di Prato, hanno avuto la visione di dire, bene, siamo noi soci, quindi soci pubblici, ma vogliamo che le aziende siano gestite in maniera imprenditoriale. Questo fa sì che, diciamo, senza far scadere la qualità dei servizi, ma anzi lavorando molto sulla qualità dei servizi perché il mercato libero questo ci impone, ma è anche quello di gestirle bene questi servizi e cercare di produrre utili per poi farli ritornare alla comunità. Una domanda, vale oggi l'assunto che in qualche modo l'Unione fa la forza, cioè avere le spalle larghe, l'idea di costruire società più grandi che abbiano quindi anche aree più vaste da gestire, questo un po' per quanto riguarda tutti i settori, se ne parla ad esempio oggi c'è una grande discussione sul lato unico per quanto riguarda i rifiuti, ma così sarà con il gestore unico idrico per quanto riguarda l'acqua e così anche per l'energia, insomma Estra in qualche modo si è allargata, vorrei capire se questo è sinonimo in qualche modo di funzionalità maggiori. Sì, io penso di sì, penso che in questi anni le scelte abbiamo fatto di fare di Estra il soggetto che partiva da tre grandi città, cioè Prato, Siena e Arezzo e che poi oggi si sta allargando a tantissimi altri territori anche fuori dalla Toscana, sia una scelta giusta, una scelta che è appunto una scelta industriale, ripeto, cioè una scelta che sta, che mette questa azienda, che mette questa azienda in un mercato, che è il mercato nazionale, della fornitura dei servizi a cittadini e imprese, perché i settori, perché ormai Estra è una multiutility, non fa più soltanto il gas, i settori su cui, che vengono aggrediti da un'azienda come Estra sono settori che rendono più competitivi i territori, anche dal punto di vista industriale, e che rendono più vicini i cittadini alla propria azienda di riferimento, per esempio sui servizi diretti, direttamente alle famiglie cittadini. Questo fa la differenza e io penso che le dimensioni oggi siano un elemento imprescindibile, anzi probabilmente avremmo dovuto prima affrontare questo argomento anche in Toscana, ecco forse se c'è un tema su cui avremmo potuto far prima, è fare di questa azienda o di altre aziende, ma comunque di questa sicuramente, fare di questa azienda un'azienda che avesse la forza di guardare anche oltre in Toscana. In Toscana non tutti i comuni hanno fatto la scelta, abbiamo fatto noi, questo ovviamente non vuol dire che è un limite, ma che diciamo ci dà allargare questo orizzonte anche fuori dalla Toscana, in Toscana ci dà una forza maggiore. Abba, su questo? Sì, è così, diciamo la dimensione soprattutto, perché poi le dimensioni sono sempre in raffronto agli altri, ora sembrano ragioni di cose un po' equivoche, però diciamo è abbastanza semplice, se i competitor principali hanno dimensioni importanti e riescono a organizzare al meglio i propri servizi, le altre aziende se vogliono competere devono per forza trovare in modo di mettersi insieme e di fare come si dice squadra, di fare un soggetto più competitivo. ed è esattamente quello che è successo. L'importante è che quando cresci rispetti i territori sia quelli da cui sei nato, sia quelli che acquisti nella crescita. Io vorrei fare solo un esempio, noi oggi siamo presenti moltissimo sulla parte adriatica, dalle Marche fino alla Puglia, devo dire abbiamo trovato e ci siamo sempre comportati con questi nuovi territori in cui Estra si è ingrandita e cresciuta, rispettando sia le pubbliche amministrazioni, il Comune di Ancona credo sia uno degli esempi, noi con il Sindaco del Comune di Ancona, con i cittadini di Ancona abbiamo uno splendido, come dire, cerchiamo di rispettare le loro indicazioni, la loro vocazione su quel territorio. ed è questo quello che bisogna fare, perché non si può fare i predatori in questo settore, perlomeno non è nella nostra vocazione. Poi ci sono anche aziende che si rivolgono, ma se hanno scelto noi e se noi siamo così radicati oggi anche in questi nuovi territori è perché non ci siamo mai comportati da predatori, ma abbiamo sempre rispettato le comunità locali. Interpretando anche le peculiarità, diciamo, di ciascun posto dove si arriva. Anche questo è molto interessante, che tra l'altro, come dire, è un po' una chiave che sembra paradossale, sembra opposta poi invece ad avere delle linee di guida fondamentali che devono essere gestite al meglio. Mi viene in mente il tema della digitalizzazione, di cui Estra, insomma, come dire, si fa promotore nella gestione dei propri servizi perché ha un impatto molto molto grande sull'azienda e che funziona? Squittiere, ora questa sarà una domanda facile, visto che lei è assessore all'innovazione, ma insomma oggi quanto è importante invece capire che su internet, sul web, ma insomma attraverso più in generale la digitalizzazione si fa azienda, no? Sì, è decisivo questo settore, è decisivo dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni perché l'innovazione all'interno della pubbliche amministrazione può essere un volano anche per l'innovazione del sistema paese, ma oggi noi abbiamo una sfida ben più importante che è quella dell'innovazione dei nostri territori e quindi soprattutto dei nostri sistemi industriali. Cioè o i nostri sistemi industriali, le nostre imprese riescono a cogliere fino in fondo la sfida dell'innovazione che hanno di fronte, oppure, come dire, sarà sempre più difficile creare lavoro, occupazione e contesti urbani perché i cittadini ormai vanno sempre di più a vivere nelle città e si concentreranno sempre di più nelle città e sarà sempre più difficile costruire contesti urbani dove la qualità della vita è una qualità della vita buona. L'obiettivo per un'amministrazione, e credo per tutti, sia quello di costruire e vivere in città dove ci sia una buona qualità della vita, dove si possa lavorare e vivere bene. Questo si può fare se oggi si raccoglie la sfida dell'innovazione, altrimenti è sempre più difficile. E io devo dire che nella città di Prato il ruolo che ha svolto Estra nella sua storia, quindi non solo oggi come Estra, ma anche prima, è un ruolo decisivo, perché senza infrastrutture l'innovazione non si fa. E Prato è un territorio, per esempio, che da oltre 15 anni è uno dei territori più cablati d'Italia, con maggiore presenza di fibra ottica. In questi anni, un paio di anni fa, abbiamo inaugurato con Estra il cablaggio al 100% dei macrolotti industriali. E quindi questo vuol dire dare la possibilità ai cittadini, ma soprattutto alle imprese, di avere delle infrastrutture che sono decisive. Cioè fino a 20-30 anni fa, avere l'autostrada, la ferrovia, era decisivo. Oggi avere la fibra ottica, l'infrastruttura digitale è altrettanto decisivo, se non di più. Ecco, io penso che noi possiamo cogliere questa sfida anche perché abbiamo sul territorio aziende che prima di altre, cioè prima che il mercato poi permettesse anche agli altri di arrivare, perché poi sono arrivati tutti. Anticipa, diciamo. Anticipa e soprattutto diciamo ci dà la possibilità di condividere una vocazione. Cioè se l'obiettivo di un territorio, la vocazione di un territorio è quella industriale, Prato è industriale e manifatturiera, avere una azienda che sul territorio sposa questa vocazione e costruisce e fa le infrastrutture e fa un ragionamento sulle tariffe e fa un ragionamento che riguarda diciamo lo sviluppo industriale. Quindi si ragiona come sistema. Prato in questo è anche un distretto industriale quindi ha anche un valore aggiunto ancora più forte. Ma se ogni attore del territorio fa la sua parte è chiaro che la competitività di tutti cresce. Se mancano dei pezzi si fa tutti più fatica. Che poi abatti questo, poi è una grande parola di digitalizzazione, ma poi si traduce in affidabilità del servizio da una parte, in potenzialità su determinate cose, mi viene in mente la domotica, ma poi insomma ce ne sono tante di settori di applicazione e si traduce quindi poi anche secondo me in una sorta anche di educazione un po' del cittadino perché se si dice guardate che qui si può fare questo servizio magari in minor tempo e così si dà anche la voglia e lo spirito di formarsi al cittadino, di educarlo in qualche modo e vuol dire poi possibilità di stare su un mercato globale, perché soprattutto per le aziende vuol dire poter competere con chi sta dall'altra parte del mondo allo stesso tempo. Sì, infatti il discorso è un po' diverso. Per le aziende credo sia uno strumento fondamentale perché ormai le vetrine delle aziende non sono più quelle fronte strada diciamo, ma sono quelle che guardano al mondo. Un'azienda esiste se esiste su internet, ma è una cosa normale, si fa a tutti, si ha bisogno di qualcosa, si vuole cercare qualche oggetto particolare o qualche servizio particolare, la prima cosa che viene ormai spontanea a tutti, prendere lo smartphone, digitare quello di cui si ha bisogno e appare magicamente le società o le imprese o le aziende che producono quel servizio. Per i cittadini ci sarà bisogno, forse ci saranno tempi un po' più lunghi, ma non saranno poi così lunghi perché la tecnologia e l'innovazione tecnologica ha questo di bello, che bisogna sempre partire da qualcuno che ha una visione un po' strategica e forse qualche volta anche un po' azzardata per la prospettiva. Se non ci fossero stati grandi imprenditori, ma anche grandi rivoluzionari dal punto di vista della tecnologia, oggi non saremmo a questo livello. Ma è chiaro che l'innovazione tecnologica ha questo di positivo, che poi alla fine intercetta davvero, cioè aiuta i cittadini, le imprese a fare impresa e i cittadini ad essere cittadini più consapevoli con una città o con un territorio a maggior disposizione, cioè di immediato utilizzo. Con una buona ricaduta anche sull'ambiente, perché poi non c'è dubbio, questo è un altro di quei valori aggiunti che insomma anche secondo me, anche quello oggi, è uno di quei valori da cui le aziende non possono prescindere. Non c'è dubbio, perché poi questo vuol dire migliorare la mobilità nelle città, vuol dire migliorare la vivibilità, vuol dire avere tutta una serie di servizi che se gestiti bene, che se orientati bene, possono davvero migliorare la nostra qualità della vita. Ovviamente in questo molto hanno, come dire, da fare le amministrazioni pubbliche, devo dire, viene detta che ha questo ruolo importantissimo, questo aspetto lo ho molto ben presente, il Comune di Prato credo sia uno dei più avanzati da questo punto, storicamente più avanzati, ma anche da un punto di vista di come si leggono poi le nuove e come si attuano le nuove tecnologie, perché poi questo diventa davvero il discrimine. C'è chi pensa a società un po' all'Asimov, dove ciascuno di noi si chiude in casa e non esce più perché poi alla fine si fa tutto da casa e c'è invece chi pensa, e qui le amministrazioni pubbliche che hanno davvero una grande importanza, un grande ruolo, invece che servono per aiutare la collettività, ma non per ridurre la socialità, ma per aumentarla. Magari riducendo i tempi di utilizzo di determinate cose per avere più tempo per stare insieme, cioè l'obiettivo, il fine ultimo dovrebbe essere quello. Allora ci fermiamo per 5 minuti, torniamo tra pochissimo, continueremo a parlare di questi argomenti, di Estran in particolare, ma parleremo di innovazione relativa a Prato che appunto, come dicevamo, fa un po' d'antesignano anche per tanti altri comuni e quindi in un certo senso un po' da apri fila. Parleremo di tanti argomenti, restate con noi, giusto 5 minuti. Grazie. Ben tornati in storia, allora stiamo parlando di Estra, ma poi più in generale stiamo parlando di un nuovo modo di fare impresa, soprattutto per quanto riguarda poi il pubblico, le partecipate, siamo con il direttore generale di Estra Paolo Abati e con Benedetta Squittieri che è assessore all'innovazione del Comune di Prato. Volevo ripartire dall'assessore perché, un po' perché, innanzitutto mi piacerebbe, un po' un suggerimento è che, insomma, in tanti comuni l'assessore all'innovazione viene considerato forse un po' un assessore di serie B, no? Questo lo dico perché ci sono tanti dei comuni che dicono sì, vabbè, la delega all'innovazione la diamo anche a questo assessore. Ma poi io ho anche il personale, quindi c'è proprio una raccolta. Però mi pare che a Prato sia piuttosto strategico invece. Come cosa? E proprio in questo senso mi piacerebbe se spendessero due parole per il 5G, no? Che è una grande sigla, una grande idea e una grande visione per il futuro, ma che a Prato avrà attuazione concreta. Ce lo vuole raccontare? Sì, il 5G, diciamo, sarà l'infrastruttura che verrà utilizzata da tutti, dal 2020 al 2030. Oggi, in Europa, la Commissione Europea ha chiesto a tutti gli Stati membri di sperimentare il 5G in almeno una città d'Europa. L'Italia, a differenza, diciamo, di tutto il resto d'Europa, dove tra l'altro le sperimentazioni sono ancora in ritardo, ha scelto di farlo in cinque città, scegliendo tre aree urbane del nostro paese, perché aveva come obiettivo, diciamo, la sperimentazione del governo, del governo precedente a questo, aveva come obiettivo quello di fare che cosa? Non far sperimentare il 5G soltanto agli operatori di telecomunicazioni, ma quello di chiedere agli operatori di telecomunicazioni di collaborare con centri di ricerca e imprese del territorio, per fare in modo che a Prato si sviluppassero anche i servizi, perché la sfida del 5G non è tanto l'uso dell'infrastruttura, che ovviamente sarà un tema, come si usa, che cosa ci permetterà di fare questa infrastruttura, ma quali sono i servizi per cittadini e imprese che noi riusciremo a produrre. Farlo, il punto è che sulla digitalizzazione dell'Italia è sempre ultima nella SIFI, sulla presenza della fibra, eccetera. Sulla sperimentazione 5G siamo pionieri in Europa e diciamo fra i primi nel mondo, proprio perché abbiamo scelto come obiettivo all'interno di una strategia più complessiva, quella del precedente governo, di considerare questo asset come un asset strategico per lo sviluppo del Paese e quindi nella produzione dei servizi, perché se io ho l'infrastruttura e poi per avere i servizi li acquisto da fuori, diciamo, mi manca un pezzo, cioè mi manca il pezzo del valore aggiunto per i territori che sperimentano e poi per tutti gli altri che ce l'avranno, diciamo, quando avremo un uso ordinario di questa tecnologia. L'obiettivo è utilizzare questi anni, gli anni della sperimentazione, per chiedere agli operatori di telecomunicazione di fare sperimentazione e use case che alla fine dei quattro anni portino già dei servizi vendibili ai cittadini, prodotti con aziende del territorio e che l'università del territorio. Ci faccio un po' sognare, no, perché magari chi ci guarda a casa dice sì, ma io la serie tv me la guardo bene anche con la fibra che ho adesso, oppure con la linea che ho adesso. Con il 5G che cosa si potrebbe fare? Allora, intanto il 5G apre un tema enorme che è quello dell'internet delle cose. Grazie a questa tecnologia avremo la possibilità di scambiare una quantità di dati che oggi non immaginiamo nemmeno e soprattutto di farlo con una latenza bassissima. Latenza vuol dire che quando io vedo un video che, diciamo, dalla diretta al momento in cui io lo vedo realmente passano dei secondi, c'è un minimo di ritardo. Questa latenza sarà quasi annullata e questo apre per esempio una serie di applicazioni che ci sembrano molto lontane e molto futuribili, tipo le operazioni chirurgiche fatte a distanza, eccetera, eccetera. Ma la vera sfida che si apre, a mio giudizio, è quello sull'uso dei dati. Noi avremo una quantità di dati enorme a disposizione. Se si pensa che gli studi dicono che fino al 2016, anzi che nel 2016, il genere umano ha prodotto una quantità di dati pari a quella che aveva prodotto in tutta la sua storia e che nei prossimi dieci anni, grazie ai sensori che metteremo in giro per le nostre case, ma già ognuno di noi è un sensore perché ognuno di noi si porta dietro uno smartphone e quindi è già un sensore, o più sensori dentro lo smartphone, noi produrremo tra dieci anni una quantità di dati che raddoppierà ogni dodici ore. Quindi quella quantità di dati sarà di proprietà di qualcuno e ci apre una serie di domande e di questioni che vanno dalle questioni anche democratiche, dalle questioni che riguardano le relazioni fra le persone, questo modifierà tantissimo le relazioni fra le persone, oppure si pensi ai temi del lavoro. Qual è la... c'è un dibattito in questo momento, il lavoro con l'automazione si annullerà e l'uomo non servirà più, oppure l'automazione ci risolverà tutti i problemi e tutti staremo molto meglio. Nessuna di queste due probabilmente è vera, ma c'è come dire una fase che è quella della trasformazione di tutte le grandi rivoluzioni industriali che ha vissuto la storia dell'uomo, nella quale c'è bisogno di far coincidere e di far avvicinare le trasformazioni che oggi ci vengono dalla digitalizzazione, con anche la qualità della vita e del lavoro delle persone. Ecco, questa è la sfida che abbiamo di fronte. E il 5G, diciamo, accelera molto tutto questo, l'accelera molto di più di quanto è avvenuto in questi anni nel passaggio dal 3G al 4G, eccetera, eccetera. Se qualche anno fa ci avessero detto, col telefono che voi avete in tasca, non telefonerete più, ma manderete messaggi, scriverete mail, guarderete film, probabilmente non ci sarebbe creduto, perché oggi col cellulare ognuno di noi telefona in una piccola parte del tempo, fa tutto il resto però. Assolutamente così, insomma, è una bella finestra che guarda al futuro, tra l'altro mi piace pensare, insomma, poi aziende, come potrebbe essere, le intercetteranno poi per renderle e riportarle poi all'utente finale, che è anche il cittadino, anche per quanto poi ha a che fare con la vita e con i servizi che vengono forniti. Abati, volevo spendere due parole sulla formazione, perché c'era un numero in quella schiera che erano 17.000 ore di formazione svolta, insomma, non è che sono proprio noccioline. Noccioline, quanto ci puntate voi sul fatto che i vostri operatori siano formati? Tantissimo, la formazione per noi è una questione di qualità dei nostri servizi e proprio per le cose che diceva, pare strano, ma proprio per le cose che diceva ora Benedetta, cioè in un mondo in cui la trasformazione digitale è così accelerata, ma siccome cambia le abitudini, diciamo, tecnologiche dei cittadini, cambiano anche il nostro modo di lavorare. Se vogliamo essere un'azienda, noi puntiamo molto sull'innovazione, puntiamo molto sulla qualità, puntiamo molto sulla sperimentazione anche. Tutto questo si fa solo se metti in grado i tuoi dipendenti, i tuoi collaboratori, di poter apprendere nuove conoscenze, nuova formazione che gli consenta di mettersi in gioco. Io penso che la formazione, che certamente ha un costo, ma per ogni euro investito in formazione, il rendimento è molto più alto di quello che si pensa. E oggi, se estra, ha anche queste competenze. Certamente lo fa molto l'esperienza maturata, ma molto lo fa anche lo studio, l'applicazione, il confronto con altri soggetti, aprire le nostre menti e fare i corsi di formazione. Non è sempre solo fare i corsi di formazione in aula. Oggi i corsi si fanno anche, grazie alle nuove tecnologie, anche dall'ufficio, ma si fanno anche andando all'estero, andando a conoscere altre esperienze. E credo che questo per un'azienda sia fondamentale. Che tra l'altro poi questo si traduce. Da una parte, insomma, leggevo anche i dati proprio sul bilancio di sostenibilità, da una parte in sicurezza, perché poi ovviamente chi gestisce materie delicate, servizi delicati, come quelli che gestisce estra, deve ovviamente avere un occhio di riguardo alla sicurezza, ma poi si traduce anche poi in quello che viene reso al cliente, in qualche modo, anche proprio in termini numerici, diciamo così. Qui mi incuriosiva i dati registrati sulla diminuzione dei tempi di attesa, ad esempio, negli uffici al pubblico. Da 15 minuti a 12, per chi si presenta proprio allo sportello, per i call center, da 55 secondi a 13. Cioè anche questo poi fa la differenza nel cliente finale, che c'è destra, magari anche per quello, no? Certo, ma anche per quello, e anche con questo, però è il frutto, diciamo, di un'azienda che è orientata all'innovazione e alla qualità del servizio. Tra l'altro su questo, su, tanto per riallacciarmi alle cose, diceva Benedetta, noi crediamo molto nell'innovazione tecnologica, questo si è già detto e spero sia anche apprezzato. Uno degli elementi che è stato apprezzato molto, soprattutto, per esempio, dai Financial Times, quindi un giornale che si occupa, che è un'autorità a livello internazionale, ha selezionato 100 aziende per l'innovazione tecnologica nel mondo, 14 sono italiane, di queste 14 una extra. Ed è stata premiata proprio per il suo portale web e per l'innovazione immessa, diciamo, nelle relazioni con il cliente attraverso la rete. Squittieri, volevo capire una cosa, perché noi abbiamo parlato di un tema cardine, no? Secondo me, insomma, lo abbiamo detto, strategico, diciamo così, per le città, anche per gli enti locali, che poi riguarderà tutti gli utenti. Gli utenti lo capiscono, quello che è l'investimento, quanto è importante, diciamo, il tema dell'innovazione? Ma, allora, su questo ci sono diversi punti di vista. Nel senso che, per esempio, sui servizi al cittadino forniti dal Comune di Prato, sul portale del Comune, noi ora stiamo facendo un lavoro anche per revisionare le modalità con cui, diciamo, mettiamo i nostri servizi sul sito. Diciamo, noi li abbiamo tutti online. Del Comune di Prato si può fare tutto online, non c'è più bisogno di andare né da fare una fila, niente. Si fa tutto online, tranne quelli in cui c'è proprio bisogno fisicamente, tipo fare la carta d'identità e poche altre cose. Però, nonostante questo, sono poco utilizzati. E quindi su questo c'è un lavoro da fare, un lavoro anche di consapevolezza, magari anche di informazione ai cittadini, su cui, in effetti, forse possiamo fare di più. Per esempio, però, sul tema delle imprese, invece, tutto il lavoro che noi stiamo facendo sul 5G e sull'innovazione, le imprese della città di Prato, anche quelle più tradizionali, non solo quelle del comparto ICT, hanno colto fino in fondo questa sfida. e la stanno già applicando nelle loro imprese. E oggi si rendono conto che questa sfida diventa decisiva ancora di più in un sistema distrettuale, fatto di piccole e micro imprese, dove magari ancora si fa la bolla a mano. E quindi, passare dalla bolla a mano al fatto che il cliente compra una pezza e vuole sapere a che punto è quando la ordina e chi la sta producendo, e magari vuole vedere anche una parte della produzione di quella pezza, insomma, c'è un mondo, c'è un lavoro da fare. E mentre su questo, diciamo, le aspettative non erano molto alte quando partì la sperimentazione 5G, tant'è che all'inizio della sperimentazione non c'erano use case appositamente, diciamo, costruiti sul tema dell'industria, per esempio, del manifatturiero tessile. Oggi, con un lavoro anche di condivisione che abbiamo fatto sull'impostazione, su quali sono le priorità, devo dire che, insomma, c'è una risposta incredibile, anzi, c'è una condivisione dell'obiettivo che per un territorio come Prato, molto frammentato e fatto davvero di tantissimi operatori, che vengono da una fase di crisi durissima, dove si sono persi migliaia di posti di lavoro e anche di competitività delle imprese, è, insomma, secondo me, una lampadina che va monitorata e su cui bisogna investire. Ecco, visto che c'è questa risposta, oggi c'è bisogno di intervenire. Senta, Abbati, siamo quasi in chiusura, volevo capire, sono due domande in una, perché abbiamo poco tempo. Da una parte, quello che sono, come dire, le risorse spese per, in qualche modo, restare sul territorio, cioè, questo vuol dire partnership, sponsorizzazione, insomma, chi segue, ad esempio, la Fiorentina va all'ostario, vede la scritta estra, ma al di là di questo, poi ci sono tantissime cose, ci sono il premio per lo sport, e ne abbiamo parlato anche spesso nei nostri telegiornali, ci sono tantissime realtà in cui essa si fa da supporterla, diciamo così. Dall'altra parte vorrei capire gli orizzonti, no? Perché in Toscana, poi si parla, appunto, ci fanno prima di grandi gestori, quali sono gli orizzonti di Estra? Beh, gli orizzonti di Estra, quello di Estra, è un'azienda importante, che fa bei numeri, che è capace di gestire bene i propri servizi, ecco, questa esperienza Estra, da sempre, da quando si è costituita, l'ha messa a disposizione di questa regione, di questo territorio. Per far cosa? Per cercare una strada che possa consentire alla Toscana, a questo territorio, di governare al meglio i servizi che offre ai propri cittadini. Mi riferisco semplicemente a due settori che non vorrei dire che per noi sono soltanto interessanti, perché dovrebbero essere interessanti un po' per tutti, cioè trovare nuove sfide anche a un progetto industriale più complessivo. Sono ovviamente quello dell'acqua, il settore idrico, e quello del ciclo dei rifiuti. Su questo è chiaro che Estra da sola non lo può fare, bisogna che ci siano anche condizioni positive a livello territoriale. e non cerchiamo nemmeno, cioè in questo caso vorremmo fare gli alleati, più che coloro che... Quelli in prima linea. Quelli in prima linea. Vorremmo fare gli alleati, perché pensiamo che davvero in questo caso l'unione fa la forza, cioè sono tutti settori che hanno bisogno di un rilancio industriale, di grossi investimenti. La sfida in prospettiva sarà su questo, beh, Estra c'è, e devo dire però su questo abbiamo trovato anche orecchie sensibili, da parte di Alia, senz'altro, e anche da parte di altri soggetti che in Toscana hanno comunque interessi nel settore idrico, nel settore dei rifiuti. Per quanto riguarda le partner, insomma, quanto rende Estra il territorio? Poi ho due parole. Beh, tanto, perché quelli sono soltanto quello che rimane, diciamo, a livello di sponsorizzazioni e di interventi a sostegno. Se poi, in senso a quello, ci mettiamo anche la parte più pubblicitaria, beh, i numeri si fanno davvero interessanti, per esempio che si superi abbondantemente il doppio di quella cifra. Che era già 1.336.000 euro, insomma, capite da soli. Siamo davvero in chiusura, questo primo esempio, volevo solo fare un obbligo, lo devo fare, che spesso in questo programma si parla di politica, Benedetta Squittieri, tra l'altro è stata responsabile dell'innovazione del Partito Democratico, l'innovazione, non per colpa di Benedetta Squittieri, ma se ne vede poca, nel Partito Democratico, in un certo, siamo sempre a discutere, mi pare, non si è cambiato molto rispetto al prima, oggi con un congresso particolarmente complicato, mi viene da dire questo, che orizzonti vede in quel senso? Ma io penso che dopo una sconfitta elettorale come quella che abbiamo subito, pesante, e dopo anche, diciamo, la visione del Paese su cui ci siamo confrontati, cioè quella del referendum, e quindi ci sia bisogno oggi di una fase nuova. Di una fase nuova, non intendo sui gruppi dirigenti o sulle forme partite, ma sulla visione del Paese, cioè troppo spesso noi siamo costretti da un dibattito pubblico e anche un po' dai giochi interni al partito a discutere fra di noi se è meglio una persona piuttosto che un'altra, se è meglio un leader piuttosto che un'altra. Perché l'opposizione al governo attuale, per esempio, deve essere un'opposizione sul merito, sulla visione del futuro e del presente di questo Paese. E il PD, che pure fa bene a fare il congresso, anche se sarà un congresso complicato, perché dopo le sconfitte i congressi sono per forza complicati, ma deve farlo ricominciando e cominciando a fare una discussione oltre che negli organismi dirigenti, ovviamente nel Paese, mettendosi dalla parte dei cittadini. Cioè, dobbiamo provare a stare lì dove i conflitti ci sono, con le nostre posizioni, non sempre con le soluzioni, perché da amministratori ci si rende conto che non sempre c'è la soluzione a tutti i problemi. Magari la soluzione per uno è scontenta l'altro, no? Esatto. Ma anche quella soluzione, se raccontata e spiegata bene e soprattutto se corrisponde a una visione più generale di sviluppo o di soluzione, allora a quel punto si trova una corrispondenza con i cittadini. Laddove questo manca e il PD probabilmente è stato percepito come distante dai luoghi di conflitto e dai luoghi in cui in questo momento la società si sente più sola, tutti noi siamo più soli nell'affrontare i problemi della vita, ecco, in effetti su questo punto c'è una difficoltà che non è solo, però bisogna dire la verità, del Partito Democratico. È un tema che riguarda le sinistre nel mondo, voglio dire, in Europa soprattutto e nel mondo. Io credo che noi abbiamo il dovere di guardare a questo punto anche nell'affrontare il congresso del PD che sicuramente non sarà diciamo semplicissimo ma insomma sarà un passaggio fondamentale. Io voglio chiudere dicendo questo, avendo ben presente che si sta dentro al PD a fare questa discussione, che si fa portando fino in fondo una scelta sulla quale diciamo siamo tutti stati convinti e su cui crediamo fino in fondo. Grazie mille Benedetta Squittieri, grazie mille Paolo Abati per essere stati con noi, grazie a tutti per averci seguito da casa, Telegram termina qui, ci vediamo domani, buona serata a tutti. Grazie a tutti.